Bentornati a tutti quanti in questo nuovo video, bentornati in questo video annuale che ogni anno si fa sempre più o meno ad agosto quindi bentornati alla sensazione di mal di mare che causerà la mia mano poco ferma e come ogni anno sono qui in canottiera completamente distrutto dal caldo per questo nuovo video in cui vi mostrerò completamente la mia collezione di film, ovviamente oscurando gli ultimi acquisti che vedrete nel prossimo video di aggiornamento sappiate che vedrete la collezione in una maniera un po' diversa dal solito, vedrete nei vari scaffali diversi buchi questo perché, come l'anno scorso avevo messo queste nuove mensole che vedete alle mie spalle, spero che si vedano perché in questo momento non vedo lo schermo come l'anno scorso c'erano queste nuove mensole qui dietro che dopo vedremo nel dettaglio anche quest'anno se avete visto un recente video che ho pubblicato su facebook per il potere di Geppetto non resta esservi fatti una mezza idea che anche quest'anno qualcosa è stato aggiunto però, bando alle ciance, giusto prima di cominciare vi ribadisco di nuovo come sto facendo ultimamente in tutti i miei video spammandolo a mille di recente il mio ultimo video che ho pubblicato prima di questo è stato il video che ho dedicato al mio primo romanzo se non l'avete fatto vi chiedo di visualizzare quel video e se siete interessati mettere mi piace e di condividerlo ovunque perché per me è una cosa veramente importantissima quindi se non l'avete ancora fatto, per favore, fatemi questo piccolo favore e detto questo cominciamo con il video vero e proprio in realtà come sempre non mi sono fatto scaletta e niente quindi non ho idea da dove conviene cominciare quindi facciamo bene o male come sempre partendo dalla parte più storica come si può vedere adesso, ora se avete notato ci sono appunto dei buchi un po' sparsi e ci sono anche da quest'altro lato dopo vedrete meglio questi praticamente sono stati fatti perché quando ho spostato i film mi sono reso conto che metterli tutti ammassati, compatti per quanto molto bello visivamente, dava molto di più la sensazione di insieme a tutta la collezione mi sono reso conto che però poi periodicamente ogni volta che perché io quando faccio gli acquisti solitamente li metto lì sotto nascosti dietro BB8 io solitamente li metto là sotto e poi faccio il video di aggiornamento ho fatto il video di aggiornamento e inizio a metterli a posto nei vari luoghi dove dovrebbero andare e ogni volta era un trauma perché giustamente dovevo spostare mezzo mondo quindi mi sono detto la prossima volta che sposto tutto quanto lascio degli spazi aperti in modo tale che quando vado ad aggiungere dei film non devo spostare mezzo mondo purtroppo esteticamente è abbastanza brutto perché dà meno l'idea della quantità di film però è un'ottima soluzione per appunto quando si tratta di metterli a posto comunque torniamo salutiamo il poster di Risidia che ha preso il posto di Eva Green allora al piano superiore come al solito ci sono cofanetti là dietro c'è anche il vinile dei Belzebub purtroppo non ho avuto altro posto dove inserirlo comunque per il resto sono appunto il cofanettone di Akira il cofanettone di Prometheus to Alien che in realtà adesso è vuoto perché li ho messi qui per averli più a portata di mano i Blu-ray al loro interno poi come al solito tutti i vari gadget e nimmoli precedentemente al piano superiore c'erano dei film random adesso sono quasi completamente tutti gli horror vorrei avvicinarmi ma ok bene o male la mia mano trema un pochino meno del solito comunque ecco come potete vedere tutti gli horror della mia collezione in DVD bene o male sono tutti quanti poi qui iniziano invece i film drammatici sempre in DVD e poi bang cominciano i Blu-ray come al solito i primi Blu-ray sono sempre le filmografie dei miei registi preferiti potete vedere Tim Burton, Guillermo del Toro, Wes Anderson, Ridley Scott Neil Blomkamp, Denis Villeneuve, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Oliver Stone, Terry Gilliam in genere poi appunto Rodriguez, Edgar Wright ce ne sono un bel po' finisce poi con Guy Ritchie lì ho messo King Arthur lì perché King Arthur mi ha fatto abbastanza cagare con il film poi si scende di qui e si continua con un po' di filmografia ok la mia mano sta iniziando ad ottimare troppo allora lo sto tenendo con due mani qui ci sono altre filmografie sempre di alcuni dei miei registi referiti e poi si trasformano in film drammatici che diventano film d'avventura proprio un'associazione a mettere vicini film drammatici film d'avventura proprio un'associazione che solo io potevo fare dopo i drammatici ci sono i thriller e poi ci sono i musical seguiti dalle commedie eccoli qui poi cominciano i film di fantascienza o comunque gli action però diciamo più fantascienza dovete vedere che si trasformano in fantasy si scende qui qui ci sono alcuni cofanetti che mettevo qui per dare stabilità poi però ho messo questa barra laterale che in realtà li rende inutili però non ho tanto modo di scombinare l'ordine dei cofanetti qui ci sono i film i miei sei film della Criterion Collection poi questi che hanno la stessa confezione della Criterion ma sono quelli da Cecchigori altri cofanetti e qui continuano i film di fantascienza che diventano fantasy in realtà sono anche un po' mischiati tra loro poi ci sono i film diciamo un po' più per l'infanzia anche se poi Bang torna con Neil Barbaro comunque fantasy 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 film anni 80 e fantasy tutto mischiato è un po' il mio reparto preferito questo in realtà perché adoro questo genere poi ci sono i cinecomics bene o male che si trasformano in film della Marvel e i film della DC e qui c'è uno dei tanti spazi si scende altri cofanetti questi sono tutti in Blu-ray ovviamente tutti i cofanetti di film e serie tv poi comincia un altro buco e qui cominciano le steelbook qui c'è il Blu-ray di Hunger Games perché poi gli altri capitoli di Hunger Games li ho presi tutti in steelbook il primo purtroppo non l'ho fatto e non è che sia un film che mi abbia fatto impazzire al punto da me lo ricompro anche in steelbook per continuità sinceramente non è che mi freghi più di tanto poi appunto cominciano le steelbook le steelbook sono tecnicamente divise per casa di produzione qui ci dovrebbero essere tutti quelli della Universal tra l'altro che me lo continuano a chiedere questi queste guaine di plastica le ho fatte io le ho fatte seguendo un tutorial che ho trovato su YouTube se voi cercate slipcover steelbook lo trovate ce ne sono miliardi di video su come realizzarle io vi consiglio di realizzarle perché le steelbook si rovinano veramente facilmente poi ci sono due della Ghibli quindi della Key Red Warner perché sono solo questi due della Warner poi qui cominciano quelli della Sony che probabilmente sono quelli che ho di più sono sì infatti penso che le steelbook della Sony sono quelle che ne ho di più poi c'è la Paramount la Fox con questi film poi questa è la Dying It la Zero Uno la Eagle questi sono tutti la Eagle la Medusa poi qui ci sono quelli della Disney famosi per non avere i titoli sulle costine ma avere le faccette poi ci sono film random coach e non poi qui ci sono i digibook e il cofanetto di The Pacific scendendo abbiamo altri cofanettoni queste sono la zona finte VHS con questi cofanetti che a parte questi due questi cofanetti in realtà sono abbastanza delle mini truffe però vabbè per quanto li ho pagati si poteva pure fare questi sono appunto i due cofanetti che contengono i film di eh se riuscisse ecco ho aperto pure al contrario fantastico comunque contengono i film di Alien e questo qua sotto Prometheus cofanetti vedranno i signori di anelli l'hobbit adesso posso usare le mani trono di spade questo in realtà non è un cofanetto però è più grande rispetto al normale Blu-ray quindi l'ho messo qui Twin Peaks dovrei invertirli però è più comodo così poi qui ci sono i Blu-ray della Disney ci sono i classici tutti quanti i classici poi qui comincia la Pixar poi ci sono i film Disney diciamo non vabbè per esempio Frank & Winnie non è un classico Disney però comunque l'ho messa qui poi cominciano i live action della Disney o più o meno il canto di Natale non è proprio un live action però comunque i film live action della Disney che si trasformano in Studio Ghibli di cui ho tutti ben o male i film usciti finora in un video e qui comincia quindi di conseguenza da qui in poi comincia l'animazione giapponese ci sono qui ben o male ho fatto l'area dedicata alla Yamato Video e vi dico mi piacciono da morire tutti affilati quelli della Yamato Video con il logo Blu-ray sopra il logo Yamato Video sono veramente bellissimi da tenere tutti vicini e qui c'è Ghost in the Shell My Hero Academia Raison School il live action dell'attacco dei giganti scendiamo altri cofanetti altri altra animazione giapponese questo cofanetto ma sono fatta arrivare dalla Francia altra animazione giapponese che poi diventa animazione americana e questi sono in realtà non c'è proprio un ordine sono un po' mischiati c'è un po' c'è Laika c'è Illumination c'è Dreamworks c'è Sony sono veramente mischiati tra di loro non c'è proprio un ordine dovrei decidermi a rimetterli in ordine come si deve e qui arriviamo agli action veri e propri Kingsman tecnicamente Kingsman è un cinecomics però lo tengo qui perché comunque il sequel non è proprio tratto dai fumetti comunque ecco appunto gli altri film action poi qui sotto altri cofanetti e qui cominciano gli horror categoria horror che in realtà non pensavo si sarebbe espansa così tanto perché ovviamente molti più horror di quanto pensassi e poi qui comincia la zona Midnight Factory con i cofanetti della Midnight Classic sposto il mio bellissimo mia bella eh tragedia sposto la mia bellissima sedia da regista e dopo mi sarà in mezzo alle scatole e qua sotto c'è l'area Doctor Who qui poi ci sono libri saga di The Witcher mia saga fantasy preferita e altri libri messi qua sotto bravo mi interessano poco qua sopra qui ho messo bene o male tutti i cofanetti eh più importanti della mia collezione per esempio Lego Movie che vedete là sopra in realtà è soltanto la custodia cioè è soltanto la confezione di cartone perché il film l'ho messo qui e per il resto i miei cofanetti sono pieni come potete vedere c'è il laser disc di Blade Runner che ho trovato al mercatino e che ora mancava poco che svenissi quando l'ho trovato poi scendendo ci sono la zona questa è probabilmente nonostante questi scaffali siano stati fatti dopo i DVD che sono qua sopra sono i DVD più antichi che ho nel senso sono proprio la prima vera parte della mia collezione è nata con questa parte quindi abbiamo la filmografia di Tim Burton David Lynch poi abbiamo Guillermo del Toro Quentin Tarantino Robert Rodriguez Wes Anderson anche se è diviso su più capitoli di Lars Van Sant abbiamo Peter Jackson cioè in generale filmografie di grandi registi si scende qui sempre grandi registi o comunque grandi film tutta la zona di Takashi Miki la zona che adoro qua sotto pure sempre film più o meno d'autore più o meno sì siamo più o meno film d'autore qua sotto inizia invece un mezzo minestrone tra film d'autore e non però comunque sempre film di una certa portata tranne Mingers che come è finito qui non lo so però bene o male sono tutti film di un certo livello e qui sotto c'è un altro minestrone però diciamo che sono bene o male commedie quelle che vedete qua sotto e qui sotto questo un tempo fino all'anno scorso qui c'erano i film trash quelli che nascondevo e che adesso sono stati trasferiti li vedrete alla fine e questa è adesso è diventata la zona DVD action e cinecomics bene o male poi vabbè ci sono commedie o simili come potete vedere la profezia dell'armadillo a quanto pare lo sto considerando cinecomics per quanto mi abbia fatto cagare come film qui sotto vabbè la collezione di ratman un manga educativo su lasciamo perdere poi rimettiamo a posto ah avuto la spada di Kylo Ren sta facendo una strage messa a posto qui arriviamo a questi scaffali qui sopra ci sono commedie o comunque saghe in alto potete vedere i libri e il cofanettone di Breaking Bad di Hitchcock comunque qui ci sono serie tv e saghe scendendo sempre saghe più o meno complete qui poi ho passato il testimone alle serie tv e a dei film random che devo ancora dividere poi qui ho messo insieme tutte le custodie snapper tranne una che vedrete dopo qui ci sono la saga di Godzilla Dr. House messo qui a caso però qua c'è tutta la saga di Godzilla e due film random poi altro spazio perché dovrà essere riempito film di fantascienza e a single man che è là sopra per nessuna ragione però comunque film di fantascienza che scendendo c'è il riflesso porca miseria comunque altri film di vabbè altri cofanetti e altri film di fantascienza altri film che diventano poi fantasy che diventano film d'animazione di studi diversi poi qui ci sono i film muti e la zona dedicata a Stanley d'olio scendendo qui ci sono i classici diciamo comunque i miti della mia infanzia o comunque i film per diciamo ragazzi per famiglie sì bene o male anche qualche film d'animazione random però comunque questi sono quasi tutti commedie o comunque appunto film della mia infanzia o comunque simili trilogia degli shorts lego su star wars bellissimi poi qui c'è la zona enzo dalò zona animazione italiana poi vabbè la collina dei conigli che ho scoperto questo dvd è diventato introvabile e altri film random e poi bang the ring proprio in mezzo ai film per famiglie fantastico poi qui sotto ci sono alcuni live action disney in dvd poi inizia la dreamworks sì poi la fox e poi qui c'è la zona don bluth che dovrei ridargli un ordine come si deve zona universale qui vabbè tutta la saga di ninjago e altri film appunto d'animazione bene o male sparsi altri live action della disney poi qui sotto abbiamo la vera e propria zona disney con tutti i classici a cui poi si aggiunge la pixar e tutti i vari lungometraggi animati non classici o comunque non canonici la zona mappet e la zona appunto degli altri live action disney scendendo zona fan edit e qui tecnicamente c'è anche qui un minestore qui ci sono un po' di horror sparsi ma che non sono veri e propri horror poi ci sono i musical poi ci sono i thriller sì vero o male sono tutti thriller che poi diventano animazione o comunque roba asiatica orientale e qui sotto c'è proprio comincia la zona anime con tutti i vari cofanetti di tutte le varie serie che ho collezionato tutti i film di dragon ball la zona lupen che purtroppo arriva fino a un certo punto gli altri film poi usciti non sono stati pubblicati la zona saiyuki e la zona doctor w con tutti i dvd del primo dottore e qualche dvd random anche di altri episodi più recenti poi allora qua sotto qui sotto ci sono i recenti acquisti volete sbirciare no non ve lo permetto comunque qui ci sono i recenti acquisti che vedrete nel prossimo video di aggiornamento ora già l'anno scorso vi avevo mostrato che una buona parte dei miei acquisti o era due anni fa non mi ricordo comunque buona parte dei dvd sono finiti qui dentro si tratta di film di cui effettivamente non mi frega quasi nulla comunque o sono film che di cui proprio mi importa poco che posso permettermi di tenere qua dentro o si tratta di film che magari poi ho ricomprato o mi sono stati regalati in altre edizioni però come potete vedere sono per la maggior parte titoli davvero 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 molto discutibili e di questi le copertine le tengo qui come potete vedere queste sono le varie copertine tenute qui dentro in modo tale che non le devo buttare però non mi occupano spazio ora arriviamo al momento della verità dove sono finiti gli altri film praticamente oggi io sto registrando questo video che è lunedì 19 agosto è 19 sto dicendo una cavolata sì è 19 oggi è 19 comunque oggi è lunedì 19 io praticamente ho passato sabato mattina a fare un certo lavoro perché mi sono reso conto che c'era un intercapedine tra il mio armadio e la parete e perché non riempirla praticamente ho passato tutta sabato da solo a costruire questo che cosa è? alle ruote si afferra si spinge ho molta calma ed ecco che nuova zona purtroppo c'è la finestra dietro che è oscura però nuova zona cinema di casa Stremis si parte dal fondo allora vi dico subito che non c'è un vero e proprio ordine cioè c'è qualche suddivisione ma per adesso sono comunque mischiati come potete vedere qui sono altri film di cui mi importa poco cofanetti di cui mi frega poco altri film qua ecco potete vedere per esempio una mini suddivisione ci sono i vari film di uve ball però per il resto sono proprio film random DVD random poi qui ci sono film appunto trash o comunque film di merda o film tipo tremors che poi ho ricomprato mi sono stati regalati in blu ray poi qui comincia invece c'è una divisione vera e propria qui c'è la mia zona di fin ninja in mezzo alla zona completamente trash questo è l'altro snapper che mancava perché battaglia per la terra sinceramente non lo voglio tanto sbandierare però posso vantarmi di averlo perché non è proprio di facile da trovare altri trash o fin comunque di arti marziali o perle del trash all'italiana poi vabbè Luigi Cozzi amore vino sopra altri cofanetti mi chiedo scusa per il riverbero ma purtroppo non posso toglierlo no vabbè comunque altri dvd anche in pluricopie come potete vedere tutto rigorosamente mischiato non c'è ribadisco un vero e proprio ordine di suddivisione e poi al piano superiore anche dei blu ray che appunto preferisco tenere separati o comunque mi frega poco tenerli in vista ci sono per esempio i blu ray di dune che sono qui perché poi è uscita la versione effettivamente in italiano del blu ray di dune grosso guai a chinatown e highlander e balla con i lupi appunto ho comprato nuove edizioni quindi lupen il live action poi ho comprato le edizioni in italiano poi appunto sono film che possono benissimo starsene qui e quindi questa è stata la recente creazione di mustro stream disnoto come geppetto e questa era la collezione completa dei miei film non mi chiedete il numero perché al momento non me lo ricordo io solitamente i numeri li calcolo sempre quando faccio i video di aggiornamento quindi vedetevi il prossimo video di aggiornamento che penso arriverà nelle prossime settimane e saprete bene o male qual è il quantitativo di film che possiedo è stata dura ho sudato credeteci o no per fare questa video ripresa del complessivo della mia collezione vi ribadisco per favore visualizzate e mi piaciate non questo video ma il video dedicato al mio romanzo perché per me è veramente importante io spero che questo video vi sia piaciuto vi sia piaciuto come ho disposto i film come ho diviso le varie categorie e spero vi sia piaciuto anche la mia nuova mensola che ribadisco mannaggia il sole eccola lì dietro una mensola mobile per le emergenze fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti questo video è venuto lungo wow 23 minuti penso sia il video tour più lungo che abbiamo fatto vi chiedo scusa se ho parlato per tutto questo tempo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e con un'ultima visione che è una scusa perché così non si vede che sto premendo il tasto noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti